Ciao, sono il dottor Asado, oggi parlo di tre tecniche per rendere la tua carne molto più succosa e più saporita. Se sei stanco e che la carne ti venga un po' secca, questo video fa per te. Oggi ti rivelo delle tecniche usate da tantissimi chef professionisti, questo è un video fatto in collaborazione con l'Accademia Italiana Chef, una scuola di cucina professionale dove anch'io ho fatto dei corsi. Oggi parlerò di tre tecniche per rendere la carne alla griglia più succosa, più saporita. Sono tutte tecniche su cui ho già fatto diversi video al riguardo, quindi se vuoi approfondire poi ti lascio il link nella descrizione di questo video. Oggi ti faccio il riassunto. Prima tecnica la salamoia, cioè mettere la tua carne in acqua con sale un po' prima di cuocerla. Acqua e sale a cui puoi aggiungere anche degli aromi e le spezie per insaporire un po' di più la carne. La cosa più importante se vuoi fare una salamoia è usare la proporzione giusta di sale. Generalmente nelle ricette che trovi online vedi salamoia con circa il 5% di sale. Secondo me, anche secondo l'Accademia Chef, per l'effetto che vogliamo ottenere è molto meglio usare dal 2,5 al 3,5% di sale. Quindi se hai un litro d'acqua, più o meno sono 25-35 grammi di sale per litro d'acqua. Usando queste percentuali la tua carne diventerà molto più saporita, servirà a risaltare il gusto naturale della carne senza però che la carne sembri salata. In più aggiungerà un pochino d'acqua, quindi verrà un pochino più succosa e se usi dell'erba e delle spezie prenderà anche un pochino di gusto. Consiglio, se vuoi usare delle erbe, conviene prima scaldare l'acqua, fare una sorta di infusione con le erbe, dopo far raffreddare l'acqua e poi fare la salamoia. Mi raccomando, sempre fatta in frigo. Seconda tecnica molto molto più famosa e più popolare è la marinatura. La marinatura classica viene fatta con una parte di un liquido grasso, una parte di acido e poi una parte di aromi, erbe e spezie. L'idea è che il grasso, generalmente ad esempio l'olio, assorbirà più facilmente gli aromi delle nostre erbe, delle nostre spezie e poi però emulsionandolo con l'acido riuscirà a penetrare meglio all'interno della carne. Siccome generalmente l'acido è ad esempio un vino, l'aceto, del succo di limone, lime, non si mescola facilmente con l'olio, tendono a separarsi, conviene emulsionarli mescolandoli bene e aggiungendoci una puntina di senape. Mescolando tutto in questo modo la nostra marinatura rimarrà molto più stabile e penetrerà molto meglio all'interno della carne, ci darà un risultato molto migliore. Quindi la marinatura ci aggiunge dei grassi, ci aggiunge del sapore, ci aggiunge anche tanta succosità alla carne. Importante è anche però non marinare troppo a lungo a seconda di quanto è grande il nostro pezzo. Generalmente fra una, due, tre ore possono bastare a seconda del tipo di carne che stiamo usando e quanto è grande. Se marinate della carne per 24 ore, due giorni, come a volte viene suggerito su internet, può succedere che si rovini la consistenza della carne oppure che si stravolga completamente il gusto naturale della carne. Lo scopo è di solito insaporire la carne senza però coprire completamente il gusto naturale della carne, anche già buonissimo così. Terza tecnica, la marinatura a secco. In inglese si chiama dry rub, cioè mettere le spezie a secco sulla carne, oppure a volte c'è una specie di via di mezzo, quello che chiamano wet rub, cioè prendere delle spezie, erbe, mescolate con un pochino d'olio, però applicate come se fosse una marinatura a secco, quindi non proprio in un ambiente liquido. Anche questa è una tecnica molto valida per insaporire la carne, ha una funzione particolare nel mondo del barbecue, soprattutto quello americano, per le cotture lunghe e le affumicature, perché le spezie messe sopra la carne danno una certa porosità e fanno sì che si forme una bella crosticina sulla superficie della carne che prende un gusto molto affumicato. Per questo che nel barbecue americano, quello affumicato, vedrete sempre molte, molte spezie usate sulla carne. Se no, un altro uso per le cotture veloci è ad esempio se usiamo un mix di spezie che hanno dello zucchero per far caramelizzare l'esterno, o se no, semplicemente per una cottura veloce, una bistecca per rialzare un pochino il sapore, anche se non abbiamo avuto tempo di fare una marinatura, una salamoia, qualche ora prima, condendo anche la carne con un po' di spezie, un'ora, 40 minuti prima, anche mezz'ora prima, già facciamo un bel effetto. E un consiglio, se dovete fare una bistecca, dovete fare della carne de manzo, aggiungete al vostro mix di spezie preferito un pochino di caffè, ma proprio poco poco, una puntina, e vedrete che quello amaro del caffè aiuterà a far risaltare tantissimo il sapore della carne. Non esagerate però perché se no diventa caffè. Sotto nella descrizione del video vi lascio il link a tutti i video d'approfondimento in cui faccio vedere dettagliatamente le procedure per fare tutto quello di cui ho parlato oggi. Vi lascio anche il link al sito dell'Accademia Italiana Chef. Questo è tutto per oggi, grazie, ciao ciao!